E' stata presentata nell'Aula Consigliere del Comune di Girifalco la sesta edizione di Agone Festival Interregionale Teatro Scuola che si terrà nelle palatenda a partire dal prossimo 17 maggio e che andrà avanti per un'intera settimana. Alla conferenza stampa erano presenti il consigliere comunale Concetta Piccione, il direttore artistico di Agone Antonio Cristofaro, il presidente dell'Associazione Teatro Popolare Girifalcese Dolotea Licaosi ed il vicepresidente della stessa associazione Antonio Marinaro. Le scuole che parteciperanno alla Kermes saranno in tutto 15, 9 calabresi, 5 siciliane e una pugliese, per un totale di circa 800 studenti, con un indotto complessivo previsto di 3.000 persone tra accompagnatori e genitori. A giudicare gli spettacoli, oltre alla giuria popolare composta da studenti delle scuole di Girifalco, ci sarà una giuria di esperti che sarà preseduta dall'attrice crotonese Giussi Mellace. La Kermes culminerà con il gran galà di premiazione che si terrà sabato 26 maggio. L'intera manifestazione quest'anno sarà dedicata a Massimo Troisi, confermata la collaborazione con l'orofo crotonese Michele Affidato che realizzerà i trofei di premiazione. L'emozione è forte perché, dicevamo prima con qualche amico, Dico che in un momento di sconforto dello scorso anno, io ho avuto modo di dichiarare questo è l'ultimo, questo è l'anno scorso. Eppure quest'anno ci ritroviamo a parlare ancora una volta per il sesto anno consecutivo di Agone Festival Teatro Scuola. Saranno poco meno di 800 gli studenti quest'anno che a turno, dal 17 al 22 maggio, calcheranno il palco di Agone Festival Teatro Scuola. Ogni giorno avremo tre spettacoli, due preserali 16 e 18 e uno serale alle 21. Finiremo il ciclo delle rappresentazioni il 22 di maggio e poi il 26 maggio alle ore 21 nella palatenda comunale di Girifalco dove si realizzerà tutto il festival, ci sarà il gran galà di premiazione che quest'anno prevede, speriamo, ancora non abbiamo confermo, quindi non lo diciamo, ma speriamo di avere grandi nomi e ospiti illustri. L'associazione Teatro Popolare Girifalcese, che è un'associazione ormai fortemente radicata nel territorio, produce cose belle. Noi come amministrazione siamo fieri e orgogliosi di sostenere tutti coloro i quali hanno voglia di creare opportunità che qualificano un intero territorio, prima di tutto comunque il comune di Girifalco per quanto ci riguarda. Il Teatro Popolare Girifalcese si impegna a manifestare questo tipo di espressioni e in particolar modo in questo periodo il Festival Teatro Scuola regala emozioni, quindi ci saranno appunto tante scuole e noi saremo ben felici di accogliere tutti quanti. Noi non facciamo solo come associazione Teatro Popolare, non facciamo solo il Festival, cerchiamo anche di fare qualche spettacolo, qualche commedia, insomma dalla commedia ad altri generi. Quest'anno è una commedia che abbiamo pronta e quindi ne approfittiamo per inserirla nel calendario del Lagone Festival, si chiama I casi sono due, è una commedia di Armando Curcio, riadattata da Peppino De Filippo nel 42, se non erro è portato in tutta Italia con la sua compagnia, con la compagnia De Filippo appunto, quindi vi invito anche a questo spettacolo alle 21 il 20 maggio. Grazie!